In primo piano, come sempre, il bollettino Covid di oggi, venerdì 14 maggio 2021, ma non solo in diretta da Pescara ce ne riferisce Marina Moretti. Buonasera Marina. Sì, buonasera Massimo, a te e i nostri telespettatori. Con la telecamera di Diego Martelli siamo davanti al Covid Hospital di Pescara, un Covid Hospital sempre più vuoto per fortuna e si evince anche dal bollettino sanitario emesso dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, che siamo riusciti anche ad anticiparvi nell'edizione delle 14, dunque ripercorro i punti salienti. Oggi 144 nuovi positivi in Abruzzo, l'età dai 9 mesi agli 87 anni. I decessi sono 2 e ci sono 265 pazienti guariti. Tasso di positività su circa 6.200 tamponi effettuati fra molecolari e antigenici è al 2,3%, vi ricordo che ieri era al 2,4%. C'è da dire anche che ci sono 20 persone in meno in terapia non intensiva, c'è una persona in meno in terapia intensiva e ce ne sono 103 in meno in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asla. L'importanza dei vaccini, parliamo di questo perché ne abbiamo parlato questa mattina con il professor Lamberto Manzoli che ha coordinato uno studio condotto in collaborazione dall'Università di Ferrara e dalla Asla di Pescara che ha appunto studiato 37.000 persone vaccinate dalla Asla di Pescara per cercare di capire quanto funzioni il vaccino e che successo stia avendo la campagna di immunizzazione. I dati sono molto buoni, c'è grande soddisfazione nelle parole del professor Manzoli che stiamo per ascoltare. Vi ricordo anche che lui è il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e anche professore di Epidemiologia e Sanità Pubblica della Università di Ferrara. Dunque un vaccino, anzi dei vaccini perché sono tre quelli in esame che sembrano assolvere bene il loro compito ma per i dettagli e se sei d'accordo Massimo chiuderei proprio questo collegamento con l'intervista alla professora Manzoli. Chi è che ha avuto quest'idea di seguire dei pazienti è proprio tra l'altro di Pescara. Non parleremo di fatti privati ma Pescara a lei è particolarmente cara. Sì, io vivo a Pescara, ho lavorato per anni alla As di Pescara ovviamente e lo studio è partito come collaborazione con il direttore sanitario il dottor Antonio Caponetti e la responsabile dei vaccini ovviamente la dottoressa Graziella Soldato che stanno facendo un lavoro enorme per fare tutte le vaccinazioni e anche per la raccolta dati. E allora abbiamo pensato dal 2 gennaio stiamo vaccinando di verificare, avendo un po' di tempo finalmente a disposizione l'efficacia dei vaccini, tutti e tre, il Pfizer, l'AstraZeneca e il Moderna. Abbiamo preso tutta la popolazione residente, tutti vaccinati e tutti non vaccinati e siamo andati a vedere quanto si sono infettati e ammalati e sono deceduti i vaccinati e i non vaccinati. E per fortuna con il nostro enorme sollievo, devo dire veramente, abbiamo trovato in linea con la letteratura internazionale, devo dire, dei risultati ottimi perché abbiamo trovato per tutti e tre i vaccini una riduzione del 95% delle infezioni e del 99% addirittura dei casi di malattia. È chiaro che sono dei risultati che hanno poco tempo di follow up, è chiaro, e dovranno essere confermati, però è assolutamente improbabile che in futuro potranno discostarsi di tanto, potranno magari scendere dal 99% al 95%, al 93%, ma non andranno sotto a delle grandi quote. Posso precisare una cosa, non solo che il vaccino dunque funziona, i vaccini, perché c'è, lei ha citato AstraZeneca, lei sa quante perplessità ci siano su questo vaccino invece? Sì, era uno degli altri elementi importanti, infatti è proprio questo l'aspetto, che tutti e tre i vaccini hanno funzionato veramente molto, sono stati leggermente efficaci. Ribadisco, abbiamo fatto sia l'analisi delle due dosi, quindi con due dosi questi sono i risultati, ma anche una dose di AstraZeneca è stata comunque molto efficace. e ribadisco, in linea con la letteratura internazionale, in Italia il primo studio era importante capirlo ora per cercare di rassicurare le persone sull'efficacia. Dicevo prima, il futuro adesso, cosa c'è da studiare che sia in relazione con questo studio o non in relazione, ma sempre con il Covid ovviamente? Sì, in futuro dovremo ovviamente ripetere queste analisi tra un paio di mesi avendo un follow-up più lungo. e anche stiamo cercando di capire, stiamo facendo l'analisi adesso, quanti sono i casi di reinfezione, cioè quanti sono i guariti che poi hanno preso di nuovo l'infezione, perché dovrebbero essere pochi, però dobbiamo verificarlo per bene. E l'ultima cosa, dobbiamo verificare se quanti sono i casi di malattia che sono insorti durante il ricovero ospedaliero. Questi sono tutti dati molto importanti, ripeto, anzi ricordo che questo studio ha certificato l'efficacia al 95% almeno della vaccinazione, bisogna fare di più e studiare queste altre cose di cui lei ha parlato poco fa. Io aggiungo, ci sarà anche uno studio, o secondo lei andrebbe fatto, o è già stato fatto sui decessi, proprio sulla tipologia delle morti? Sì, l'hanno fatto tanto l'Istituto Superiore di Sanità, il punto è che sono stati dei numeri talmente grandi che non è facilissimo capire. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che comunque il 95% dei decessi Covid sono correlati al Covid, però non è facile capire perché l'età è molto avanzata di molti di questi. Insomma, è un aspetto difficile, però sicuramente il Covid c'entra. Grazie a tutti.